Allora, siamo nel camerino nell'ultima data di Lorenzo? Negli stadi. Bravo, hai indovinato. Penso positivo, sentiamo, stiamo ascoltando le registrazioni, questa è Milano, vero? Questa è Milano la seconda sera. Milano 2, quindi. Milano 2, vicino a 6 gradi. A più di 6 gradi. Questa è penso che io, va. Sì, vediamo, andiamo qua. Qua è tutto suonato, non c'è nemmeno un computer che va. Qua è tutto suonato, non c'è nemmeno un computer che va. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Niente e nessuno del mondo potrà fermare, internazionare. Niente e nessuno del mondo potrà fermare, fermare. Questo da che viene, questo da che viene, questo da che viene, questo da che viene, questo da che viene. Ma la scritta al contrario. Ciao. Ehi, fai una stritta al contrario. e si porta il bene 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 che spettacolo che abbiamo fatto mostragli un po' di entusiasmo mostragli un po' di entusiasmo fai una faccia triste fai una faccia allegra fai una faccia elettronica faccia analogica un po' più analogica ciao a tutti ragazzi grazie